Stai lì da 35 doppia piastra del 96 quando era fantascienza della roba Ciao a tutti bentornati un'altra volta qui su pianeta molto mai con me c'è Pablo Fiorilli l'idiatore, la mente che c'è dietro Bright Racing Shots infatti siamo dentro alla sede, dentro all'officina dove nascono le forcelle a stelle rovesciate made in Italy e siamo venuti a scoprire non solo cosa c'è dentro ogni forcella ma anche come nasce ogni singola forcella Bright e quello che è l'economia circolare, il ciclo della vita di una forcella ovvero quello che esce dalla testa di Pablo come si trasforma in una cosa solida in un pezzo di carbonio e metallo e soprattutto poi come fa a trasformarsi in qualcosa che dà delle performance sui sentieri Pablo mi spiegavi che c'è una scaletta che è idealmente seguita possiamo ridurla così, design e sviluppo è il centro di tutto, è in centro permanente nel senso che non è una fase iniziale di nuovo prodotto ma esiste sempre e sta sempre lì non solo a livello di progetto e quindi a livello di concetti, di soluzioni eccetera e di intuizioni tu ti risolvi un problema, fondamentalmente da questo nasce un progetto c'è un problema, c'è una cosa aperta, c'è un qualcosa che deve essere migliorato chiamalo come vuoi da lì deve nascere l'intuizione perché la progettazione per quello che mi riguarda è creare il periodo che non c'era ma anche lo sviluppo che poi è lo sviluppo pratico dal banco prova la creazione di setup, trekking, test con i piloti eccetera eccetera e poi esperienza reale in campo, quella ce l'hai continuamente la prototipazione è collegata in due sensi con il design e sviluppo quindi da qui si pensa, si fa un prototipo, si prova, si sviluppa si risolva il prototipo, si valida hai provato a fare uno stelo in cala qua? sì, dentro, strutturalmente dentro c'è il carbone, c'è l'UD e le ultime pelli sono di cala qua, proprio di tutto, di continuo qualunque cosa devi provare per capire come reagiscono i materiali come applicare nuove tecnologie, devi sempre pensare a domani non puoi pensare a quello che fai oggi, devi pensare a quello che fai fra cinque anni a questo punto inizia la produzione parti CNC, quindi la parte base tutta la lavorazione di truciolo, diciamo così comprese naturalmente anche le parti in fibra di carbonio il prodotto è definito, sappiamo qual è la forcella sappiamo che sarà il modello dei prossimi due anni, tre anni tutto definito, provato, funziona si passa al desiderato del cliente cioè quando arriva all'ordine del cliente viene definito insieme a lui qual è la configurazione con cui verrà preparata quella singola forcella per lui la prima hackerata che si fa con un potenziale cliente è sempre quella che determina cosa lui vorrebbe dobbiamo capire cosa ti aspetti dalla forcella come guidi, che bici usi, che tipo di gare fai o se non fai gare, che tipo di percorsi fai cosa non ti piace delle forcelle di grande produzione cosa vorresti della forcella di questo genere e cosa non ti piace o cosa ti piace particolarmente della forcella che hai oggi insomma da lì col cliente si arriva con una chiacchierata si arriva a determinare quella è la tabella della forcella Bright dopo ci sono tutte le varie finiture, le vigature tutto quello che è la fresatura, la tornitura dell'alluminio prima delle finiture e le vigature che si fanno internamente prima delle finiture intese anche come galvaniche che si fanno esternamente e le parti di lavorazione, le parti che vengono lavorate in carbonio e vengono fatte tutte qua dentro qui è dove teniamo il carbonio che deve rimanere sempre congelato a meno 18 gradi perché usiamo un tipo di fibra di carbonio che è impregnata questo significa che la matrice che poi è resina epossidica viene compressa all'interno del tessuto viene compressa all'origine questo per dare la garanzia di avere l'impregnazione massima di ogni singola fibra questa è una cosa molto importante questo è il materiale nudo questo stato che è quasi l'abbiamo appena tirato fuori dal congelatore la resina passerà a uno stato che si definisce come fase gel e poi allo stato vetroso e la transizione si chiama transition glass quello che avviene quando la resina viene cotta è che prima col calore diventa estremamente liquida ora qui non si vede ma tutto è diventato così molle è appiccicosa perché la resina appunto si è licefatta questa resina è una resina epossidica detta anche termoindurente cioè è una resina che una volta raggiunto lo stato vetroso non tornerà più indietro nemmeno riscaldandola è la resina più resistente in assoluto la fibra di carbonio si può fare con tanti tipi di resine questa è la più resistente in assoluto è quella usata nell'aerospazio usata anche nell'autosport in formula 1 usare questo invece di usare la fibra asciutta che poi viene bagnata con una resina liquida a pennello permette di avere una resistenza meccanica e un'affidabilità nel tempo estremamente più alta perché quando si va a bagnare con la resina liquida una fibra asciutta questa fibra all'interno non sarà mai perfettamente bagnata e il limite strutturale della fibra di carbonio sta proprio nelle delaminazioni che avvengono a causa del fatto che la matrice cioè la resina non riesce a penetrare a bagnare tutto le fibre di per sé non hanno una grande resistenza in tutti gli assi la resistenza è solo attrazione così si muovono tranquillamente per far sì che lavorino solo attrazione vanno opportunamente orientate naturalmente ma ci vuole anche qualcosa che le contenga e questa è la matrice appunto la resina ipositica questo è un gruppo di filamenti in realtà poi questo è formato da tantissimi filamenti quando si parla di 1k, 2k, 3k, 6k, 24k si intende il numero di filamenti che compongono la fibra principale dopo questa fase e dopo raggiunta la temperatura di cottura che nel caso nostro è 120 gradi la resina diventa rigida e questo è il risultato finale da qui si tolgono solo le bave il fodero per noi deve venire così ci deve essere veramente la perfezione della stampaggio non c'è bisogno di verniciarli questo è carbonio grezzo togliamo solo le bave ripuliamo queste ripuliamo le bave in testa e in coda viene ripulito anche dentro anche se si vede abbastanza bene come è pulito ma comunque li viene spazzolato perché i nuovi incollaggi abbiano una migliore adesione questo è lo stampo del piedino si finisce di montare si chiude tutto si mette in forno si fa un preriscaldamento a 90 gradi da quel preriscaldamento si fa la carica con la fibra di carbonio sempre impregnato fibra T700 che è la stessa che usiamo per i foderi o T700 o T1000 come una palla di fibra di carbonio che facciamo noi dai ritagli dei foderi viene riciclato il materiale che altrimenti sarebbe stato da buttare via anzi da smaltire come rifiuto speciale in questo modo non diventa un rifiuto diventa un prodotto finito ad un costo che è accessibile perché a quel punto tu hai un piedino in fibra di carbonio che ha un costo che è poco più alto di il piedino in alluminio quindi ci guadagna tutto il ciclo il cliente l'ambiente e noi va sottopressa a 30 tonnellate di pressione dopodiché viene cotto direttamente indurito si passa all'incollaggio e assemblaggi in generale parlo di assemblaggi fissi strutturali io la sto incollando gli steli sui piedini l'incollaggio è sempre accompagnato da una fase una fase veloce di riscaldamento perché riscaldare l'alluminio significa dilatare i pori dell'alluminio e in più aiuta anche la resina a fluidificarsi ma dilatare i pori dell'alluminio significa permettere alla colla di penetrare all'interno dell'alluminio e quindi ancorarsi ancora meglio nell'incollaggio e assemblaggio c'è tutto quello che è anche l'allineamento delle guide l'allineamento della struttura il controllo dell'allineamento della struttura consideriamo che abbiamo precisioni da motosport precisioni nel parallelismo dei foderi o nei giochi nel controllo dei giochi tra stere e foderi abbiamo precisioni che stanno nell'ordine dei 20 micron 30 micron questo è l'incollaggio strutturale della boccola filettata che poi fungerà da sede della cartuccia idraulica è l'ultima è l'ultimo componente che viene che viene assemblato parlo di assemblaggio strutturale quindi non di integrazione quindi viene messa la colla da dentro queste sono operazioni che preferisco che rimangano sempre molto artigianali perché dal momento che una delle due parti che ha un manufatto in carbonio che ha per definizione l'esterno finito e definito dallo stampo ma all'interno no dobbiamo sempre ci vuole sempre l'occhio e un po' anche la sensibilità della persona dell'umano che va a calibrare a dosare la resina e a ripulire la resina in base all'accoppiamento di quei due singoli pezzi queste sono operazioni che sembrano scontate o a volte sembrano anche operazioni che si potrebbero tranquillamente automatizzare ma alla fine il risultato non è esattamente lo stesso tutto si automatizza tutto si industrializza ma ci sono delle a volte delle differenze enormi su alcuni passaggi specifici che determinano poi il risultato finale di una completezza maggiore o minore quindi è una cosa molto importante un blocco molto importante da qui si va all'integrazione e setup quindi quello che è setup della cartuccia e il tuning fondamentalmente e viene fuori una forcella da qui dopo ci sarà il test del cliente perché riceverà la forcella e dovremmo capire se insomma se tutto è come era desiderato ci può essere un'integrazione con setup e tuning perché ci potrebbe essere una correzione da fare questo succede dipende un po' diciamo forse dalla pignoleria e appassione del cliente ma come anche dalle esigenze esasperate di magari un pilota che fa il mondiale il design e sviluppo continuano sempre ad essere presenti come dicevo all'inizio anche su un prodotto finale perché quando il cliente ha avuto la forcella se l'è portata a casa e se la sta godendo noi continuiamo a sviluppare e via via usciranno anche upgrade quindi questo è sempre il design e sviluppo lavora sempre così a doppio filo con la prototipazione e alla fine restituisce sempre di continuo anche verso il prodotto finale parlo delle upgrade parlo di cartucce nuove di cose che si possono sempre poi assemblare e integrare sul forciare già prodotte già in commercio e che naturalmente si influiscono del continuo sviluppo che viene fatto da qua la prima esattamente la prima serie si chiama serie 0 e questa è la serie F 12 anni di differenza l'una dall'altra questa è 2012 e questa è 2024 la compatibilità è praticamente totale le guarnizioni queste sono le nuove SKF dual appena uscite queste non sono questo in particolare non è nemmeno SKF comunque era sempre un 35 mm di derivazione RockShox sono stessa praticamente stesso housing quindi queste possono andare qui l'isteria è nello stesso diametro l'asse è sempre lui 15 110 torque naturalmente a quel tempo non esisteva il torque qui c'era lo SRAM che era il precursore del boost con torque questo è il boost con torque la larghezza è variata ma questo riguarda la struttura oggi la forcella è più larga questo finalmente siamo riusciti a fare anche sono riusciti a trovare il tempo di disegnare il passatubo abbiamo il nostro passatubo questo lo puoi mettere anche qua la cartuccia idraulica all'interno qui ci va l'H8 e l'H8 la puoi prendere e mettere tranquillamente nella 0 come la cartuccia della 0 la puoi mettere nella forcella di oggi è tutto completamente compatibile assorbiamo noi quello che può non essere compatibile ma fisicamente quello che arriva al cliente è un pezzo che si può montare nell'una e nell'altra e in tutte le serie intermedie tra l'altro noi abbiamo una cartuccia sola che è la stessa per cross country trail enduro e DH che ora sta arrivando la DH è solo più lunga o più corta e ha un setup diverso ma la cartuccia strutturalmente è quella quindi tutto è compatibile troppo arrivate quasi questa vai vai ok ciao grazie allora siamo in bright e vediamo no non mi piace tu poi sei bastardo perché dopo tu metti tutte le cose no te l'hai già fatto una volta non potrei far più te l'hai già